Buongiorno, il 21 di Dezember, la spirale rotonda è iniziata per il traffico. Il nostro corpo di polizia ha chiesto che il traffico, il chauffeur, si tratta di un cambiamento. Il cambiamento è un po' confusione, quindi si corre con cautela, con la velocità, si tratta di un segnale, si tratta di un segnale, e si tratta di un'immaginaggio. Il rato è un'immaginaggio, di un'immaginaggio, a dei rato, per esempio San Nicolà, Cumanà, Oraniastatt e hotel. Il nostro vantaggio è importante avere un'immaginaggio con noi, e avere un'immaginaggio e avere un'immaginaggio che comprensione per non costruire il momento, per esempio, un accidente, eccetera. Poi c'è anche la polizia che andiamo a riparare la rotonda per guia e tráfico, e se c'è una domanda per contestare, non. A riparare la rotonda, c'è anche l'occhietto, per evitare il cambio di direzione o di line, e per evitare il accidente necessario. A riparare la rotonda, c'è anche l'occhietto. Non si spera che la riparare la rotonda non sia meglio il caso. Per il resto della mia banda, se c'è qualche domanda, non si trattava sicuro per aiutare il sofferno dei sacchi.